Se vuoi rendere il giorno più bello della tua vita indimenticabile, in una location da sogno, rivolgiti a Villa Minieri. Immersa nel verde, accoglie i suoi ospiti in uno splendido parco naturale di 30.000 m2, arredato e arricchito da eleganti salutini e gazebo che fanno anche da sfondo a una ricercata piscina all'aperto. Luogo ideale per aperitivi, taglio della torta o per festeggiare fino a tardanotte, con musica e tanta allegria, gli sposi. Lo spazio interno dispone di sale per ricevimenti che possono ospitare fino a 240 persone. Tutte finemente arredate e arricchite da preziosi ornamenti, si adattano perfettamente alle occasioni speciali. I piatti prelibati e la maestria degli chef fanno da tre di unione a una serata memorabile. I piatti proposti, sempre originali ed elaborati con materie prime, sono ormai vanto e firma di identificazione per i ricevimenti di villa minieri. Situata ai piedi della collina di Castelcicala, non troppo lontana dall'uscita dell'autostrada, è facilmente raggiungibile da chi viene da Caserta, Napoli o Avellino. La risposta perfetta per chi cerca una location ideale per i matrimoni. Villa minieri e il tuo sogno è più bello, diventa realtà. Grazie a tutti.